Auditorium, i concerti di Ameria Radio. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Questa sera in programma di Aleksandr Scriabin ascolteremo la sinfonia numero uno in Mi Maggiore per Grande Orchestra, opera 26, nei suoi sei tempi. Lento, allegro drammatico, lento, vivace, allegro, andante. Sul podio, Aleksandr Markowitz dirige il coro e l'orchestra sinfonica della radio e televisione spagnola. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Ameria Radio.